Fra meno di 30 anni, il nostro pianeta ospiterà 9 miliardi di persone. Lo stesso pianeta che oggi garantisce la sicurezza alimentare a poco più della metà della popolazione mondiale. La sfida è produrre abbastanza cibo per tutti, tutelando l'ambiente. Ma come? La Lombardia si muove con successo in questa direzione da decenni. E applicando il modello dell'agricoltura sostenibile intensiva, ha dimostrato di saper coniugare esigenze differenti, fino a raggiungere l'eccellenza. Nuove tecnologie e tecniche, come l'agricoltura di precisione, infatti, hanno innovato il settore primario rispettando ecosistemi e benessere animale. L'economia circolare è il modello da seguire, anche attraverso i finanziamenti della politica agricola comune e del programma di sviluppo rurale. Gli animali producono fertilizzante per i campi, i terreni coltivati sequestrano CO2 dall'atmosfera, fiumi e pioggia forniscono gran parte dell'acqua necessaria alle colture. Rendere efficienti questi meccanismi, facendo ricorso a metodi responsabili di protezione delle piante, assicura importanti risultati. Negli ultimi vent'anni, infatti, mentre le produzioni agroalimentari lombarde sono rimaste invariate, la superficie coltivata è diminuita del 50% e quella forestale è aumentata del 33%. Attività agricole e natura trovano così la perfetta sintesi. E grazie al lavoro dei nostri agricoltori, custodi di questo equilibrio, il futuro della sostenibilità non sarà soltanto ambientale, ma anche economico e sociale.